La mia madre è contraria, tutta la mia famiglia è contraria, è uno strumento per avere la propria libertà e tornare alla vita di sempre. Se non si vaccinano saremo sempre punte da capo, peggiorerà. Perché pensano che sia inutile, che sia una forma di tenere sotto controllo delle persone, però loro non hanno capito che non finirà mai. A settembre vieteranno di usare i mezzi pubblici, come ci muoviamo? Dove andiamo? Perché bisogna, bisogna farlo, è importante. Tornare alla vita di fare tante cose, queste cose per essere più liberi. Per un senso di responsabilità nei confronti di tutti, non solo dei loro coetanei, ma anche delle famiglie che ci sono dietro. Abbiamo aspettato un poco perché erano in vacanza con i nonni, ma appena siamo tornati è stato il primo appuntamento. No, no, lo devono fare, assolutamente. Si devono vaccinare per tutelare loro e gli altri. Sì, 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 più sicuro è giusto farlo, sì. Cosa dici a quelli che invece continuano a non volersi vaccinare? No, devono vaccinarsi perché è la salvezza, senza il vaccino non si va da nessuna parte.